Tutto pronto al Comune di Sciacca per il rilascio della prima carta di identità elettronica. Una rivoluzione, dichiara l'amministrazione comunale, che ha il passo con i tempi e con le normative. Gli uffici anagrafe del Comune abbandoneranno la tradizionale modalità di emissione del documento su carta, salvo casi eccezionali. Il progetto è finalizzato a incrementare i livelli di sicurezza e ad adeguare documenti di riconoscimento ai nuovi standard internazionali. Si inizia lunedì 18 settembre. Da quella data gli uffici comunali cominceranno a emettere la nuova carta di identità elettronica in materiale plastico, delle dimensioni di una carta di credito dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip che memorizza i dati del cittadino, sia la foto sia l'impronta digitale. Sul retro della carta è riportato il codice fiscale. Il nuovo supporto prevede anche la facoltà per il cittadino maggiorenne di indicare il consenso o il diniego alla donazione degli organi. Il processo di emissione viene gestito direttamente dal Ministero dell'Interno. Il Comune ha il compito di accogliere le istanze e avviare l'istruttoria. La consegna del documento avverrà entro sei giorni lavorativi dalla data di richiesta all'ufficio anagrafe presso l'indirizzo indicato dallo stesso cittadino. Oltre ad essere strumento di identificazione, la nuova carta di identità è anche un documento di viaggio verso tutti i paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi. Il nuovo sistema partirà dunque la prossima settimana. L'ufficio anagrafe abbandonerà la modalità di emissione della carta di identità in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentato urgenza segnalati dal richiedente per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche. La carta di identità in formato cartaceo potrà essere rilasciata anche nel caso in cui il cittadino si è iscritto all'anagrafe degli italiani residenti all'estero.